Quante volte ti sei svegliato nel cuore della notte pensando chi è veramente Leonardo Ortolani? C'è solo un modo per trovare la risposta a tutte le tue domande Wikipedia Ma se internet non prende E chiedilo a Leo, no? Che mi... Mi stai a me a... A rompere a me? E chiedilo a Leo E non mi rompere le palle a me Che io tra l'altro non so niente Devo andare a prendere la bambina